Pocker in arrivo per l'Avellino, archiviata positivamente la questione partene a Lombardi con la società bianco-verde che in giornata ha completato tutto l'iter burocratico per l'iscrizione al campionato, gli obiettivi ora sono rivolti solo ed esclusivamente al calciomercato e gli erpini sono particolarmente attivi nella fase delle trattative, tanto che nelle prossime ore si preannuncia un poker nel pacchetto degli acquisti. Ai già citati Marchizza e Falasco si è aggiunto Simone Pecorini, terzino destro dell'Entella. Un colpo last minute per l'Avellino che domani è in programma all'incontro per i due difensori di Scuola Roma. Con il terzino sinistro Nicola Falasco visto nell'ultima stagione a Cesena accordo già raggiunto, manca solo il nero su bianco. Questione di dettagli invece per Riccardo Marchizza, il promettente difensore centrale della Roma assistito dal procuratore Minieri, è pronto a dire sì ai biancoverdi nonostante il pressing di società di serie A quali Sassuolo e Sampdoria. È stato lo stesso Minieri al portale Forza Roma a confermare la trattativa avanzata con i rupi. Oltre agli ottimi rapporti tra l'Avellino e la Roma, lo stesso Minieri e il calciatore preferirebbero un club di B dove Marchizza possa avere più spazio. Il poker è pronto ad essere calato con Di Tacchio per il centrocampista cordo biennale già raggiunto da tempo, ma bisogna sempre attendere un movimento in uscita a centrocampo per i lupi con paghere e lista di sbarco. In attacco invece oggi scadrà il termine per il diritto di riscatto del cittadella su Arrighini. La sensazione è che la società veneta non voglia più puntare sull'attaccante che così da domani potrebbe essere un altro acquisto per Mister Novellino, ma bisognerà ancora appazientare qualche altra ora. Con Arrighini in organico poi gioco forza l'Avellino in attacco andrà su un under che molto presumibilmente arriverà sempre dal vivaio di un club di serie A.